ciao sono katia vaccari e oggi vediamo tre esercizi per gli addominali nel caso in cui tu hai la diastasi dell'addome quindi se ti hanno sempre detto che non puoi fare addominali nel caso di diastasi beh insomma ti hanno sempre detto una bugia perché in casi gravi la diastasi va operata ma in tutti gli altri casi la diastasi va ridotta o comunque migliorata grazie a esercizi addominali ma anche a esercizi di respirazione e di allungamento della schiena adesso vediamo comunque gli esercizi per gli addominali partiamo con 30 secondi di lavoro 10 secondi di recupero io lo farò per due volte poi eventualmente puoi farlo una terza ok partiamo subito quindi con il primo esercizio che è un plank sulle ginocchia quindi sbilanciata bene in avanti da qui tocco la spalla quindi ombelico forte forte risucchiato dentro mi raccomando quindi non perdermi qui la colonna le mani sono bene perpendicolari sotto alle spalle mi stringi forte 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 l'ombelico e ti vai a spostare leggermente verso la spalla dove vai a fare il lavoro che mi stringo forte forte qua l'ombelico stringo l'addome porto la mano verso la spalla ok tra baso tono secondo esercizio esercizio che ho creato io quindi da qui piede a martello ginocchia 90 gradi vado a distendere la gamba il piede a martello vado a distenderla completamente le ginocchia sono strette tra di loro le spalle sono rilassate inspiro e fuori aria vai a lavorare qua bene con l'allungamento della catena posteriore quindi stiamo andando a lavorare anche sulla schiena quindi quello che ti dicevo prima e ovviamente sugli addominali quindi stringo fuori aria rilasso le spalle e andiamo ancora vai 3 2 1 ok perfetto il terzo esercizio è un roll down quindi gambe divaricate larghezza di spalle vai a farmi una bella c con la schiena da qui braccia distese faccio una c e risalgo inspiro sguardo sempre in avanti allungo bene la colonna e risalgo ancora allungo bene giù la colonna stringo forte l'addome e scendo ritorno giù qua sempre le spalle giù 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 e ritorno cerca di allungare anche quella schiena risucchiare forte l'ombelico e quindi allungo la schiena e ritorno su ancora 2 1 e stop ripartiamo quindi secondo giro e andiamo quindi di nuovo con il plank su ginocchia stringo forte addome tocco la spalla se vuoi me lo puoi fare anche sui piedi quindi ovviamente versione più intensa però insomma già così se mi rimani bene sbilanciato in avanti con l'ombelico stretto ti assicuro che l'esercizio si sente come mai sposto mano qua la spalla stringo 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 forte forte inspiro fuori aria mai spostamento qua ancora 4 3 2 e stop ok travaso tono quindi schiena giù piede a martello ginocchia schiacciate distensione in alto spingo vai distendo bene sulla gamba inspiro e fuori aria non fare le cose in apnea rilassami le spalle vai allungo inspiro allungo bene mi raccomando anche il tratto cervicale in allungamento quindi non vado ad inarcare indietro la testa sempre bene in allungamento il collo è mai distensione qua completa inspiro fuori aria ancora rilasso le spalle su e ancora perfetto andiamo con l'ultimo che è il roll down quindi piedi qua in appoggio giù le spalle braccia avanti allungo scendo e ritorno su giù le spalle allungo e ritorno su sempre un belico qua scendi 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 ritornami su ancora scendo 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 e ritorno giù sempre le spalle vai 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 e andiamo 10 secondi allungo 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 e ancora 3 2 1 e stop molto bene questi sono solo alcuni dei tanti esercizi che sono contenuti nel mio programma wonder training che è il programma personalizzato al 100 per cento che puoi fare ovunque tu ti trovi quindi ad esempio a casa ma che soprattutto tiene conto delle tue problematiche tensioni dolori quant'altro in questo caso della diastasi addominale quindi ecco con wonder training ti puoi allenare qualsiasi limitazione problematica dolore tu hai ti aspetto clicca il link un abbraccio ciao 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 ciao